Allora siamo qua al campeggio Tropical, tenuto dagli amici di Andrea Bacci e suo papà che sono bravissimi. Abbiamo questa bellissima signora, la Cristina Pagan, col fratello Andrea che adesso è impegnato perché stanno sistemando, come vedete c'è un po' di confusione. Voi dovete sapere che questi chioggiotti Boc, dopo 32 anni, Cristina un po' di meno adesso ce lo spiegherà, ma il suo fratello da 32 anni erano in Germania con un locale chiamato Pasta Mia e a un certo punto hanno deciso di ritornare a Chioggia. Ci sembra una bellissima notizia, oggi è anche una bella giornata. Come mai questa idea Cristina di ritornare a Chioggia? La nostalgia è tantissima, ci è venuta questa occasione, l'abbiamo presa al volo e abbiamo preso questo locale qua. Faremo della pasta fresca prodotta da noi e niente, vi aspettiamo in tantissimi per provare la nostra pasta fresca. Abbiamo il forno a legna, delle buonissime pizze e che dire, benvenuti a Pasta Mia. Quindi complimenti e bravi, faremo anche un po' di pubblicità, ma come mai non vi trovate bene in Germania? No, anzi si sta benissimo. Perché adesso avete ancora i ristoranti in Germania? Sì, abbiamo ancora i ristoranti in Germania, abbiamo i figli che lo gestiscono. Noi avevamo un po' di nostalgia e siamo ritornati al nostro paese. È bello che ci sia gente, appunto, oltre al fatto che, è bello che chiunque venga qui a intraprendere a Chioggia, sono tutti benvenuti. Ma chiedi Chioggiotti che da tanti anni erano fuori, quindi dovrete riabituarvi un po' alla vita di Chioggia. Quanto tempo è che siete già tornati? Siamo a qualche mese che siamo qua per preparare il locale. Allora, torneremo con il locale a posto e faremo tutto quanto. Sì, benissimo. Grazie, grazie. Prego.